Contagi sempre troppo alti. Per cercare di limitare la diffusione delle nuove varianti del Covid, la Germania potrebbe imporre a breve limitazioni di viaggio e maggiori controlli alle frontiere. Come confermato anche dal ministro dell'Interno, questo venerdì viene presentato un piano di proposte, una stretta che riguarda chi arriva da Portogallo, Gran Bretagna, Sudafrica e Brasile. Bisogna agire in fretta. Per Seehofer non ci sono altre soluzioni, il paese non può attendere misure europee e quindi deve prepararsi ad affrontare l'emergenza a livello nazionale, con norme proprie. Ci potrebbe essere una forte riduzione del traffico aereo, ha detto, pari quasi allo zero. Frontiere chiuse fino al 12 marzo in Norvegia, quasi tutti non residenti. Nuove regole più strette per entrare nel paese, ha annunciato la Premier Solberg, fatta eccezione per il trasporto merci e gli operatori sanitari. La Norvegia, che fa parte dell'area Schengen, ha poco più di 5 milioni di abitanti e dall'inizio della pandemia ha registrato oltre 61.000 casi, 566 decessi. Nel frattempo, chi arriva in Gran Bretagna da Portogallo, Sudamerica e da alcune zone dell'Africa dovrà mettersi in quarantena per dieci giorni. Chi invece intende uscire dal Regno Unito dovrà avere un valido motivo di salute o di lavoro, altrimenti le multe saranno salatissime.